Grazie per partecipare a questa serata. È un po' che ci stiamo lavorando e ci tenevamo molto ad avere qui presenti tutti, allenatori, dirigenti e genitori, perché vogliamo un po' raccontare come è partito questo progetto, cosa stiamo facendo e con noi vogliamo arrivare, cosa vogliamo fare. Partiamo dal titolo. Già per decidere il titolo ci abbiamo messo 3 o 4 ore, perché non sapevamo bene come porre sia il volantino che la serata. E alla fine è saltata fuori la parola consolidare, che è un po' difficile, non è molto da volantino, però ci sembrava la parola giusta perché era l'unica che dava un senso di continuità in quello che si è fatto in 38 anni e mezzo e che si vuole cercare di portare avanti andando verso il quarantesimo. Quindi la cosa più importante per noi era non perdere quello che è stato fatto fino adesso e non pensare, insomma, siamo arrivati noi e vogliamo cambiare pagina, vogliamo continuare con tutto quello che è stato fatto di buono e migliorare dove possibile, sentendo un po' tutte le persone coinvolte. Quindi da qui un po' il titolo che ci è sembrato più centrato è stato questo. Sappiamo tutti che il gestione nasce all'interno dell'oratorio e storicamente si è consolidato nell'oratorio per poi uscirne, arrivare fino al campo, alla palestra e quant'altro e coinvolgere tutte le discipline che non sappiamo e in cui tutti siamo coinvolti, come allenatori, consiglieri, dirigenti e avere i figli di giocatori in primis. Ovviamente per noi un aspetto importante è l'educazione, il coinvolgimento e l'attività coloratorio, senza però tralasciare la parte sportiva. Alla fine siamo una società che si occupa di sport e il nostro obiettivo è quello di cercare di migliorare in primis la parte sportiva, andando di pari passo con la parte educativa e la parte associativa che ci coinvolge tutti dentro l'oratorio e poi dall'oratorio. E ci coinvolge anche verso altre società del territorio nei rapporti che non sempre sono facilissimi ma dobbiamo cercare di gestire secondo la nostra tradizione oratoriana. Da qui ci siamo insediati a ottobre come nuovo direttivo e abbiamo subito il primo argomento di cui abbiamo parlato con Stefano, quasi come un passaggio di consegna, è stato il progetto del tipo positivo che è stato fatto l'anno scorso. Io l'anno scorso avevo già conosciuto Claudio e Toni che sono i due educatori di comunità nuova che ci stanno aiutando in questo progetto perché avevano fatto un progetto con i bambini del mini basket, incentrato sulla disabilità, quindi micro basket e mini basket con delle giornate, degli incontri specifici per far giocare i bambini a basket ma facendo capire a loro come la persona a cui manca un senso particolare vive questo sport, quindi un coinvolgimento di giornate con filmati e attività pratica anche con i genitori alle volte. Il caso della cosa è stata un pochino di nicchia nel senso che magari chi era coinvolto nel basket come me perché ero bambino ho vissuto in prima persona questa esperienza, però è stato un po' faticoso di espanderla. Allora ci siamo incontrati poi con Toni e Claudio appunto e loro ci hanno un po' illustrato la loro proposta nel senso che un'unità nuova che è stata fondata da Don Gino Rigoldi, tra l'altro ci sarà un incontro qui con Don Gino Rigoldi il 21 di marzo e voi vedrete i volantini in giro insomma però ve lo ricordo già che è una occasione e ci hanno illustrato un po' le loro attività quindi attività di tipo positivo, attività verso la disabilità come quella del mini basket, attività di tipo positivo di tutoraggio a tutti i livelli sia verso i ragazzi, sia verso le scuole, sia verso i tifosi, i genitori che stanno a proprio campo e anche un aiuto verso i dirigenti diciamo. Quindi abbiamo pensato insieme a loro con l'aiuto di Stefano e Stefania che ci sono stati vicini in questi primi incontri, in questa scelta e hanno sponsorizzato il nostro coinvolgimento con loro, abbiamo pensato di partire da noi, nel senso dal direttivo, un gruppo allargato di adulti motivati per capire quali sono gli obiettivi e le finalità del GSO, nel senso loro ci hanno messo di fronte al fatto che il direttivo sono le persone che danno la direzione quindi devono essere capaci di dare agli altri la giusta direzione, indicare quali sono tre, quattro, cinque obiettivi su cui si vuole focalizzarsi e su cui si vuole lavorare. Quindi abbiamo cominciato a discutere con loro di questa cosa per vedere quale potesse essere l'approccio migliore. e il primo esercizio che abbiamo fatto con loro, loro ci hanno chiesto come immagini, fate un pensiero, ognuno di voi faccia un pensiero per dire come immagina il GSO tra due, tre, quattro, cinque anni. Cosa secondo voi manca, cosa va aggiunto, cosa bisogna un solidario. Adesso passo la slide. Come vi dicevo, ognuno di noi ha lavorato singolarmente, abbiamo messo insieme una serie di pensieri che sono questi che vedete, diciamo che li abbiamo assemblati, abbiamo cercato di mettere insieme con i comuni, per fare un sommario e avere circa una decina. Quelli che sono usciti dal nostro ragionamento sono appunto questi, cioè le criticità che vedevamo e le cose che andavano valorizzate. Quindi lavorare sull'unione tra diverse discipline, perché ognuno di noi avvisava anche solo mancanza di comunicazione tra le varie discipline che seguiamo. Lavoro sulle finalità del GSO, cioè pensare a quali possono essere le finalità, come dicevo prima, e metterle in un capusaldo, un documento, una condivisione da avere poi insieme a tutti. Maggiore senso di appartenenza, siamo partiti parlando delle divise, perché ogni tanto è stata una cosa un po' sintomatica per tutti, ogni tanto ci trovavamo a vedere la nostra squadra con la divisa arancione e guardando bene le squadre dicevamo, ma qual è la squadra del GSO? Allora abbiamo pensato che questo potesse essere un punto su cui lavorare. Un nuovo direttivo, come dicevo, con obiettivi a lungo o medio termine, insomma, però decidere e fissare qualcosa poi da realizzare, da vedere realizzato in concreto. GSO Romagna che accoglie, che ha nei suoi obiettivi, direi che è una reorgativa che è fondamentale, che è stata sottolineata, ma c'è sempre stata secondo me questa cosa, anche negli ultimi giorni semplicemente abbiamo accolto dei ragazzi dal Pakistan, dalla Svezia e quant'altro, quindi questo più che una criticità è un valore già lì presenti, diciamo. essere un punto di riferimento per il territorio, siamo fortunati perché a Romagna ci siamo solo noi, quindi viene abbastanza naturale venire da noi, però non vogliamo che questo sia solo il fatto di non avere scelta, ma di avere una scelta consapevole sia per il genitore, che per il ragazzo, che per il dirigente, che per l'allenatore, sapere perché viene qui e cosa lo aspetta se viene qui. Attenzione alla parte organizzativa, comunicazioni e materiali vari, su questo siamo partiti, diciamo già l'anno scorso, introducendo il sito web e da quest'anno anche la pagina Facebook perché ormai i giorni nostri sappiamo tutti che il volantino va bene, però poi il gruppo Whatsapp, usato con i giusti modi, la pagina Facebook, tutta la documentazione che ci può essere, sono il modo più efficace per mandare le informazioni in giro. Inserimento dei giovani, anche questo è un punto secondo me già ben avviato, che abbiamo sottolineato, che si manifesta nel fatto di vedere le squadre dei bambini più piccoli che hanno insieme a loro dei ragazzi della Open, dei ragazzi della Juniores, che danno una mano anche solo per la loro presenza e sono un esempio per questi bambini. Lavorerete con le altre associazioni, è un'altra cosa che è stata sottolineata e che secondo me già esiste, è collaborare con l'oratorio, con l'administrazione comunale, con tutte le associazioni del territorio insomma, nel nostro piccolo. Partendo da questi nostri pensieri, Claudia e Toni hanno poi lavorato un po' sulle nostre ambizioni, tra virgolette, e ci hanno fornito una loro proposta. La loro proposta è stata lavorando su di noi come direttivo e come gruppo allargato. Qualcuno, qualche genitore, qualche dirigente, qualche allenatore ha già partecipato a qualcuno di questi incontri. Quindi diciamo il primo passaggio era come proposta costruire una squadra di adulti motivati, composta dal direttivo, allenatore, dirigenti e anche genitori, che condivida e partecipi alla costruzione di questo percorso. Organizzare dei momenti di riflessione sullo sport, da un punto di vista sia sportivo che educativo in crescita, come può essere una serata come quella di oggi. Voglia di lavorare, come dicevo prima, sul senso di appartenenza del GSO, dove tutti ci diamo una mano e se sento qualcosa che non va bene, non lo lascio cadere, ma magari lo riporto alla persona giusta e si cerca di risolvere il problema senza poi andare magari, non so, in strada a fare la polemica invece che cercare la soluzione. Come dicevamo prima, questa proposta poi rispecchia i nostri pensieri, i fatti e il desiderio sulle varie discipline di condividere la parte organizzativa e di valori. Ha senso per noi che tutte le discipline del GSO coinvolte utilizzano la stessa metodologia, parlano delle stesse cose e si basino sugli stessi principi. Parlando dei genitori e delle persone che assistono a bordo campo, vorremmo che tutti siano degli esempi positivi, quindi dal dirigente all'allenatore, al genitore, siano da esempio per i loro figli, perché sappiamo tutti che quando andiamo a vedere una partita l'esempio migliore per i ragazzi viene da fuori, nel senso che se la persona fuori tira una borraccia in campo, il ragazzo in campo ovviamente è più probabile diciamo che si comporti di conseguenza. Poi abbiamo parlato, devo passare forse a parlare dopo, porre attenzione a dei momenti formativi, cosa vuol dire? Sia per i dirigenti che per gli allenatori. Noi in 4 o 5 siamo appena andati ad un corso organizzato dal CSI su una serata per dirigenti, molto semplice con 10 persone e il presidente del CSI di Milano, ci siamo seduti in cerchio e abbiamo condiviso, il tema era come potresti migliorare la tua società sportiva, molto semplicemente abbiamo condiviso due ore dove ognuno portava le sue problematiche e si cercava di avere qualche punto fermo, qualche momento di esperienza degli altri per cercare di capire come affrontare o risolvere i problemi che poi tutti abbiamo in caso. Idem per gli allenatori, come proposta pensavamo di andare verso la formazione degli allenatori perché sia la parte sportiva che la parte educativa è molto importante che le persone siano competenti, il genitore che porta il bambino cerca la competenza sportiva ed educativa, dobbiamo essere noi per primi a cercare di coinvolgere le persone che vengono da noi per fare l'allenatore, per fare il dirigente a coinvolgerle in queste attività che sono, come abbiamo visto noi prima persona, fondamentali. Quindi i temi che vengono proposti nel progetto sostanzialmente si possono riassumere così. la relazione che è il fattore chiave nell'educazione, relazione che può essere a bordo campo, nello spogliatoio oppure anche in serato come questa di condivisione. Come dicevamo prima, la persona a bordo campo dove l'adulto è l'esempio per il ragazzo e a volte il ragazzo è anche l'esempio per l'adulto in tanti casi e questo ci deve un po' far pensare. La quotidianità sportiva perché riflettendo, alla fine il modo per educare i ragazzi che hanno gli allenatori dirigenti è quello che hanno sul campo, li vedono 6 ore a settimana, 5 ore a settimana e il momento che hanno loro per educarli nello spogliatoio o nel campo è quello. Non possono perdere tempo, tra virgolette, a fare un discorso di due ore con i ragazzi ma devono cercare di mettere dentro all'attività sportiva la parte educativa. Infatti io come ultimo punto ho segnato senza tralasciare la parte sportiva. Diciamo questo è un po' lo scenario sul quale è nato l'idea di questo progetto e utilizzare questa serata per presentarlo per farvi capire un pochino di cosa stiamo parlando. I passaggi che abbiamo fatto fino ad oggi sono questi. Cosa succede adesso? Abbiamo preparato un questionario con il direttivo e con il gruppo allargato di genitori, allenatori che sono stati coinvolti, una ventina di persone. Siamo partiti da una base e abbiamo integrato questo questionario. Perché in questo mese di marzo questo questionario verrà somministrato a un campione di atleti, genitori, dirigenti, direttivo e ragazzi. Con i ragazzi hanno già cominciato, Claudio e Tony, ad andare a visitare gli allenamenti, sia in palestra e al campo ed hanno già somministrato, non so quanti, ma credo una buona parte di questionari. Per ragazzi intendo anche prima squadra, la seconda divisione, gli open di basket, quindi in modo da coprire un pochino tutta la geografia dei nostri atleti. Atleti, genitori, ragazzi, ovviamente alla prima squadra non verranno fatti questionare i genitori, però a tutti gli altri ragazzi, i dirigenti prenderanno un campione di genitori, quindi magari agli allenamenti o alla partita qualcuno di voi verrà chiamato dal proprio dirigente a compilare il questionario che è anonimo. Quindi diciamo la persona che ve lo somministra vi fa da assistente, ve lo lascia, voi lo compilate privatamente e se avete qualche dubbio la persona che c'è lì ve lo chiarisce, però non c'è da mettere nomi, cognome insomma. Alla fine di questo mese, con la fine della somministrazione dei questionari, verranno raccolti tutti i dati e verranno elaborati da Tony, Claudia e poi verranno discorsi insieme a noi del direttivo e gruppo allargato per capire da questi dati quali sono le criticità e le priorità che vogliamo poi mettere nella fase successiva. La fase successiva si deciderà in quel contesto lì, nel senso che prendendo questi dati e vedendo quali sono le criticità e i punti di forza emersi, si deciderà quali sono le azioni concrete da fare successivamente, cioè mettere per esempio un progetto educativo oppure una carta etica, condividere insieme magari un documento che poi la persona nuova che viene nel GSO si prenderà il dirigente o qualcuno direttivo e gli dirà questa è la nostra carta, due pagine, leggila, sono i valori che vogliamo condividere in modo poi da sapere, di avere messo al corrente le persone, delle nostre idee e qual è la strada che vogliamo seguire. Diciamo che poi esatto anche potrebbe esserci qualche attività di tutoraggio a bordo campo, insomma in base a quello che uscirà da quel questionario decideremo un po' cosa fare insieme al gruppo allargato delle persone che sono state coinvolte. Alla fine di questo percorso ci sarà un'altra serata di presentazione dei risultati e una serata una volta consolidato tutto ciò una serata di presentazione della nostra stagione sportiva quindi ci sarà un incontro pubblico dove verrà presentato quello che è l'intatto finale di questo lavoro e come questo si proietta nella stagione successiva. Volevo poi dirvi un paio di cose più concrete su cui abbiamo iniziato a lavorare in parallelo a questo progetto. L'argomento più caldo è il discorso del campo sintetico sapete bene che il Don ha un po' di tempo che parla di questa cosa. Nelle ultime due settimane abbiamo visto un paio di società per iniziare a farci fare un preventivo, un progetto insomma per capire di cosa si sta parlando, per mettere in concreto su un foglio di carta e capire quali sono le opzioni, quale strada prendere e discutere di questa cosa. Non abbiamo parlato solo del campo ma anche della palestra, nel senso che entrando in palestra il fondo della palestra è abbastanza assimilabile al campo quindi abbiamo pensato che anche quello abbia magari bisogno di almeno una valutazione sul cosa poter fare. L'ultima cosa che voglio dirvi, anche questa è una cosa concreta, il fatto che abbiamo un po' con l'anno scorso abbiamo un po' riscoperto l'abitudine del ritiro estivo e quest'anno ci siamo mossi con molto anticipo per trovare una struttura più grande dove si può dare la possibilità a tutti di venire. L'anno scorso eravamo una sessantina, quest'anno la casa che abbiamo preso ha posto per 130, se poi saremo 50 va bene allo stesso, però diciamo che il messaggio vuole essere quello di partire con il piede giusto, poter essere presenti tutti insieme o comunque chi ne abbia la voglia di partecipare. Quindi anche su quello vi arriveranno prossimamente gli avvisi dove ci sarà l'indicazione sulla specie di prescrizione come è stato fatto l'anno scorso per avere un'idea sul numero e poi si concretizzerà nella prima settimana di settembre. Ho finito, se avete qualche domanda se no lascio la palla al Don. Don Albertini risponde così. La creatività, e siamo dentro tutti, la creatività di tanti dirigenti, allenatori e di tanti preti ha prodotto tanti progetti e iniziative. È difficile riassumerli o presentarli anche perché ogni territorio vive situazioni differenti. Credo però che le maggiori possibilità di riuscita ci siano là dove si promuove uno sport per tutti e alla portata di tutti, soprattutto dei più deboli. La parrocchia non vuole cercare il prossimo campione, ma dare un'opportunità di crescita a ciascuno. Sono progetti vincenti quelli che sono capaci di recuperare il senso della festa e non solo quelli dei risultati. Dobbiamo anche ricordare che oggi, soprattutto, un buon progetto è quello che favorisce l'integrazione e la socializzazione. Ecco, io sono fermamente convinto che al di là di altro che c'è dentro del progetto, il cammino che stiamo facendo sia proprio con questo spirito, in questa linea e intendiamo veramente realizzare tutto questo. Da vecchio prete vi dico anche che un campione, se deve venire fuori, viene fuori comunque. Viene fuori comunque. E penso che sarà ancora più campione se avrà accanto a sé, se i nostri ragazzi, perché tutti sono potenziali campioni, se avranno accanto a sé genitori e allenatori capaci di rispettare il loro ruolo, evitando quelle invasioni di campo che sono sempre negative. Quindi ciascuno rispetti il proprio ruolo. Se devono venire fuori dei campioni, verranno fuori. Ci mettiamo dentro anche questo sogno. Però quello che Don Alessio ha detto qui è da condividere. Certo, magari qualcuno la può pensare anche diversamente. Però io sono fermamente convinto che se il nostro GSO opera in questo modo, tirerà fuori tanti bei campioni per la vita e se qualcuno sarà per lo sport, meglio ancora. Ma sarà tanto più bello e tanto più vero se davvero da parte nostra c'è davvero la capacità di rispettare ciascuno il proprio ruolo. E a felice conclusione del mio, spero breve, intervento, Gigi è stato capace di darci un'indicazione. Ci ha letto lì delle cifre. Più precisamente ci verranno dette, quando è Paolo? Il 24 marzo. Paolo ha annunciato una cosa che ci sta molto molto a cuore. Il 12 di luglio noi termineremo l'oratorio feriale. Il 13 partiremo per esimolario e poi dall'anno prossimo andremo a far vacanza lì dove il GSO porterà i nostri ragazzi a settembre a Castione della Presolana, in una struttura che già non mi permette di dormire la notte, perché è talmente grande e talmente bella che mi viene da dire. E come faremo Paolo a curarli tutti? Ma li cureremo, li cureremo. E come? Vi assicuro che è un bellissimo posto. Allora il 12 finisce l'oratorio feriale. Il 13... ...e noi qui a Romagna, grazie un po' a questo progetto che è nato dieci anni fa dalla figura di Candido Cannavo, io dico positivo, dove al centro ci sono i valori dello sport. Quando io uso questa parola, di queste riunioni ne abbiamo fatte talmente tante, non ho mai incontrato un adulto che mi dicesse, per me la violenza nello sport ci deve essere, per me la slealtà nello sport ci deve essere, per me nello sport ci deve essere solo la vittoria. sono tutti educati, poi andiamo sui campi, andiamo nella società sportiva e non lo diciamo noi, la violenza maggiore, la maleducazione, atti di razzismo sono nei campionati giovanili, 8-13 anni. Chi fa queste cose? I genitori a bordo campo, gli allenatori, i dirigenti e poi arrivano i ragazzi. Quindi Candido Cannavo, amico della nostra associazione, ci sollecita a utilizzare maggiormente lo sport, quindi come strumento, sport da un altro punto di vista. Io e Claudia siamo due educatori professionali, siamo dieci educatori che lavorano su questo progetto e da quando siamo partiti dieci anni fa, io settimana prossima sarò a Londra perché è diventato anche un progetto europeo, perché le persone che in qualche modo hanno vissuto come Paolo l'esperienza, hanno riconosciuto che forse qualche capacità e qualche competenza ce l'abbiamo. Siamo un onlus, quindi facciamo tutto questo per un benessere sociale, non perché siamo un'azienda. Quindi questa è un po' la cornice. Lavoriamo in diverse società sportive ma soprattutto tutte le mattine, ormai io e Claudia lavoriamo insieme da 8 anni, tutte le mattine anche stamattina andiamo a scuola, lavorando sempre sui valori dello sport con i ragazzini di quinta elementare e di prima media. E quarte in qualche caso. Seconda e media ogni tanto. Ogni tanto. Dalla quarta alla seconda. Che cosa facciamo a scuola? Ve lo racconta Claudia. Sì, allora, con i ragazzi proponiamo un percorso. Un percorso che ha delle tappe diverse. Prima ci troviamo in classe e proponiamo loro degli allenamenti. Quindi li facciamo un po' riflettere. Non parliamo solo noi, ovviamente la metodologia che utilizziamo a scuola è molto attiva. Partiamo un po' raccogliendo qual è la loro esperienza sportiva ma anche scolastica. Cioè quando giocano insieme nei momenti del gioco libero piuttosto che in palestra. E da lì partiamo e ci riagganciamo e lavoriamo su qui e ora, su quello che loro ci raccontano, lavoriamo sui valori dello sport. Quindi a seconda delle classi che incontriamo, lavoriamo su temi diversi. Anche se i temi principali sono sempre lo sport inclusivo, lo sport è per tutti, le regole, l'educazione. Questi sono i temi che trattiamo. Poi a seconda delle classi c'è la classe che ha più bisogno di lavorare sullo spirito di squadra, sul gioco di collaborazione, quelli che hanno altri bisogni. Quindi a seconda facciamo questi allenamenti in classe. Dopodiché proponiamo loro invece delle esperienze, delle esperienze emotive, coinvolgenti. Cosa facciamo a fare loro? In genere facciamo incontrare loro un testimonial, cioè un atleta, uno dei nostri tanti amici che in questi ormai dieci anni abbiamo conosciuto. e sono atleti che hanno voglia di incontrare i ragazzi, che sono molto disponibili a incontrare i ragazzi, che vengono assolutamente a titolo gratuito e i ragazzi li intervistano. Veramente questi sono degli incontri meravigliosi perché i bambini non hanno remore, fanno tutte le domande, domande dalle più semplici ma anche estremamente profonde. Infatti gli atleti ogni tanto dicono aiuto, che domandone che ci fanno! Quindi l'incontro col testimonial. Poi facciamo vivere altre esperienze, l'esperienza partita. Abbiamo diverse società sportive che ci offrono la possibilità di partecipare a delle partite ma di vivere il clima della partita in un contesto positivo, nella curva io tifo positivo. Cosa noi abbiamo preparato i ragazzi a questo momento? Vengono chiaramente con i loro genitori e li coinvolgiamo facendo un tifo positivo, quindi attivandoli, facendoli partecipare, facendoli spesso scendere in campo, quindi la distanza si accorcia sia prima della partita che dopo la partita a seconda delle società sportive ma soprattutto vivendo un clima come dovrebbe sempre essere lo sport. Cioè io vado lì perché mi voglio divertire, perché voglio stare con i miei amici e voglio vedermi un bello spettacolo, ok? Terzo momento, li facciamo giocare. Vogliamo vedere come giocano e nel momento in cui giocano se riescono a giocare di squadra. Quindi se non c'è, perché a scuola spesso succede questo, io sono più bravo, gioco io per primo, faccio io. No, siamo, dobbiamo fare dei giochi in cui la collaborazione è l'ingrediente principale per cui ok, io sarò bravo in questa cosa, io sono meno bravo ma se ci mettiamo insieme, insieme riusciamo lo stesso a fare il gioco. Quindi proponiamo questa esperienza di giochi da fare insieme. In queste occasioni non esistono, i protagonisti non sono solo i ragazzi ma cerchiamo di coinvolgere il più possibile i genitori e ovviamente gli insegnanti che sono sempre presenti. Beh, questo è il lavoro che facciamo nelle scuole e invece nelle società sportive costruiamo un percorso. Qui a Romagna abbiamo costruito insieme la prima fase del percorso poi in altri paesi perché caliamo sempre l'intervento ai bisogni della società sportiva. Dovante prima, questo progetto ha avuto in qualche modo un successo e stasera c'è qua il presidente del CSI della provincia di Lecco Ennio che ci sta filmando e praticamente ieri sera col CSI presentando il progetto a settembre praticamente ci saranno non solo più la GSO, la GSO Romagna o altre società sportive, praticamente proporremo questo progetto anche ad altre società sportive della provincia di Lecco facendo il lavoro insieme. Comunità nuova e CSI di Lecco. Quindi vuol dire che in qualche modo aumentiamo sempre la qualità. Questo è un po' l'anteprima. Adesso io cercherò di farvi capire che cosa significano alcune parole. Se non capite per favore alzate la mano così magari iniziamo un dibattito. La base non si capisce perché oggi per essere un buon meccanico praticamente se una volta era sufficiente una chiave inglese e una cassetta degli attrezzi oggi bisogna essere super formati. Una macchina oggi è diversa da una macchina di dieci anni fa. Questo su tutti i mestieri. Non si capisce perché non c'è stato questo adeguamento sulla parte educativa. Oggi fare il genitore è diverso da che farlo dieci anni fa, vent'anni fa, trent'anni fa. Ci sono delle cose che noi adulti dovremmo in qualche modo metterci insieme e cercare delle soluzioni. Non dipende solo da noi, dipende da un contesto sociale. Quindi quello che ruota intorno. Ci sono tantissimi specchi per la lodole. Non solo per i ragazzi, non solo per noi, ma per tutti. Il tempo corre più veloce possibile. Quindi noi dobbiamo valorizzare il nostro ruolo. Se io penso, quando ho iniziato a fare l'educatore, quello che faccio oggi in classe, ho detto mamma mia. E ogni giorno vi assicuro che entrando stamattina in una scuola a Monza abbiamo dovuto fare delle cose, entrando in una scuola ieri mattina ad Arcole e abbiamo fatto delle altre. E le stesse cose quando entriamo in una società sportiva. Perché dipende molto dai ragazzi, dall'individualità. Quindi il primo messaggio è utilizziamo il tempo, mettiamoci insieme per acquisire delle competenze. Le soluzioni non si trovano sui libri, possono aiutare, ma le soluzioni vanno trovate in una comunità, nel contesto in cui i ragazzi vivono. Perché abbiamo scelto lo sport come luogo fondamentale? Perché di fatto è uno dei pochi luoghi dove i ragazzi ci sono ancora, oltre che i centri commerciali e le strade. I ragazzi sono presenti per un tempo massiccio durante la settimana. Due allenamenti più la partita vuol dire che è minimo che i ragazzi sono presenti per sei ore alla settimana. Quindi un tempo notevole. Noi continuiamo a dire perché in queste sei ore che abbiamo a disposizione non aumentiamo anche la parte educativa. Che vi piaccia o no, anche se io sto zitto e sono un allenatore che non ha voglia di preoccuparsi dei ragazzi, ma se sono lì sono, senza volerlo, un educatore. È il ruolo, perché i ragazzi mi guardano e quindi io devo assumermi questa responsabilità. Che non vuol dire che devo diventare lavorato in pedagogia, ma devo almeno aumentare i miei strumenti di comunicazione con loro. Poi vi farò un enenco delle cose. Devo valorizzare il tempo. Ogni tanto noi quando lavoriamo con i genitori gli diciamo prova a pensare alla giornata di oggi o di ieri, dell'altro ieri. Quanto tempo hai dedicato alla relazione con i ragazzi. Relazione vuol dire non prenderli e accompagnarli a scuola, andarli a riprendere, portarli alla società sportiva, andarli a riprendere e portarli a casa. La relazione vuol dire la capacità di fermarsi e di raccontarsi. I genitori che si raccontano al figlio e il figlio che si racconta al genitore guardandosi negli occhi, spegnendo tutto quello che c'è intorno. Quindi non è che sto parlando insieme a mio figlio nel frattempo, faccio la spesa, accendo il cellulare, faccio da mangiare. Quindi, oggi le famiglie dedicano ai propri figli, ci sono tutte le ricerche che dicono questa cosa, pochissimi minuti al giorno. e poi diciamo che i ragazzi non sono responsabili che non hanno capacità, noi diciamo che il minutaggio ogni giorno dovrebbe aumentare sempre di più. Perché se abbiamo messo al mondo dei figli anche io sono un genitore, vuol dire che ci siamo assunti una responsabilità. E anche l'allenatore, anche il dirigente, anche il prete, anche il politico deve pensare che il giovane è un valore. Un ragazzino di 14 anni se non ha un contesto adulto che è un buon esempio ripeterà quello che fa il mondo adulto. Quindi la valorizzazione del tempo. Vi faccio vedere il documento World. Che cosa vogliamo fare con questi progetti sportivi, educativi? Le venti parole. Le venti parole. Sì, la parte iniziale. Vogliamo accorciare trasformare le buone parole e le ottime intenzioni in azioni concrete. Queste azioni concrete è proprio un DNA di comunità nuova. Don Gino ci ha sempre insegnato che bisogna parlare un attimino, dire delle cose ma poi bisogna concretizzare. Perché se stiamo mesi e mesi a parlare poi non gli diamo mai niente se noi andiamo oggi a casa sua lui vive con 15 ragazzi ormai da 65 anni a questa parte. La sua casa è sempre stata quindi quando verrà qui a Romagna parlerà di accoglienza ma lui tutti i giorni la vive l'accoglienza quindi tutti i giorni fa delle cose particolari. Fa parte anche della mia storia personale quella di accogliere le persone. Vogliamo accorciare la distanza tra il dire e il fare. Anche stamattina abbiamo usato questo proverbio a scuola. Tra dire e il fare c'è di mezzo il mare come se fosse un'onda che va. Noi quello che continuiamo a dire è che tra dire e il fare facciamo sempre così io e Claudia ci sono di mezzo io. Questo non è un dieci è un qualcosa che si trasforma è un io. Se noi abbiamo un nome se abbiamo un cognome se abbiamo un corpo una storia è la mia storia quindi riconoscere che sono io sia che ho otto anni nove dieci venti cinquanta sessant'anni io sono responsabile delle mie azioni sono responsabile delle mie parole sono responsabile delle mie intenzioni sono responsabile dei miei sogni e logico che mi piacerebbe condividerlo con due tre cinque sei venti centomila persone oggi dobbiamo condividere che è una bella parola che va contro questo fatto di essere un po' troppo individualisti di non accorgerci quello che ci succede da vicino quindi la collettività quando parliamo di metafore sportive il gioco di squadra è una metafora sociale quindi la squadra come contesto sociale io non posso vincere le partite da solo io non possiamo cambiare la nostra comunità se non ci inventiamo un po' insieme non può essere solo un politico solo un prete o solo una società sportiva dobbiamo vivere insieme quindi il senso di comunità verificare se i pensieri e le pressioni fatte insieme si traducano in comportamenti realmente corretti e coerenti la verifica anche con il direttivo della GSEO abbiamo fissato delle verifiche noi decidiamo delle cose andiamo in campo le sperimentiamo e poi verifichiamo un po' se le cose funzionano metafora sempre sportiva io alleno per due volte alla settimana la partita della domenica è una verifica non solo del risultato è una verifica se io allenatore durante la settimana in qualche modo con le mie competenze e le mie capacità sono riuscito a trasmettere delle nozioni sono riuscito a trasmettere una cattica ma ci sono altre cose sono riuscito a trasmettere la capacità di reagire di fronte al fatto che stiamo perdendo la partita i ragazzi come reagiscono di fronte a un fallo brutto di un componente dell'altra squadra i miei ragazzi come reagiscono sono tutte cose che noi dobbiamo insegnare ai ragazzi la capacità di concentrarsi la stiamo insegnando ai ragazzi questa cosa del valore che ognuno ha il proprio talento poi se ci guardiamo a bordo campo è la stessa cosa qual è il ruolo centrale di tutte le persone che sono a bordo campo dal nostro punto di vista è quello di sostenere non dovrebbe esistere il tifare contro qualcuno l'offendere qualcuno non dovrebbe essere un 27 allenatori a bordo campo perché i ragazzi se sono lì e tutte le volte che sbagliano un passaggio invece di guardare il mister quindi con i propri occhi guardano il mister guardano la tribuna vuol dire che sulla tribuna per loro è il punto di riferimento un'altra cosa importantissima è che lo sport ci insegna a vivere le emozioni una buona sconfondenza un buon errore è ha un valore educativo enorme dagli errori se io sono capace a prendere l'errore e lo leggiamo insieme ma cavolo i ragazzi sugli errori possono crescere in ogni momento quindi nello sport ci sono tantissimi valori e questo è un po' un elenco se lo è sotto un attimino Paolo allora una società sportiva ha una struttura di questo genere tutta una parte che è legata proprio all'aspetto funzionale quindi ci sono gli allenatori dobbiamo provarli ci sono i genitori c'è l'economia ci sono i materiali ci sono le palestre ci sono tutta la parte proprio funzionale e tutto il resto quanto tempo dedichiamo quanto tempo dedichiamo alla parte educativa noi andiamo a prendere gli statuti delle società sportive e tutti diciamo siamo liberi per far crescere i ragazzi sì ma cosa facciamo e sottolineo insieme noi la società sportiva può fare una cosa e anche i genitori a fianco della società sportiva possiamo ottenere dei risultati magnifici faccio degli esempi molto molto pratici per farvi capire che non è che dobbiamo rivoluzionare il mondo questo è un esercizio che facciamo sia nelle società sportive sia a scuola la borsa sportiva quindi la semplice borsa io arrivo a casa e ho la borsa della GSO quando arrivano a casa i vostri ragazzi questa borsa che hanno di solito a tracolla entrano tra la buttano per terra vedo già delle facce che dicono sì qualcuno la fa diventare una palla da biliardo pam e noi accettiamo queste cose poi alla società sportiva per andare a comprare la borsa ha dovuto fare 27 giri di tutti i negozi che costano di meno che tipo di logo dobbiamo fare dobbiamo prendere materiale impermeabile cerchiamo di trattarlo bene vediamo quotidianamente questi giochi queste azioni sia quando entrano a casa sia quando arrivano alla società sportiva ma non possiamo parlare di educazione e di rispetto su questa borsa sportiva poi i ragazzi quando hanno finito la partita soprattutto quelli piccolini ma anche gli adolescenti il papà o la mamma che gli prende la borsa perché loro sono stanchi ma non è la loro borsa non possiamo metterci d'accordo su questa cosa apriamo la borsa che è stata lasciata lì chi la svuota la mamma il papà non svuota la borsa questo ce lo dicono la mamma la mamma ma perché non gli insegniamo a svuotare la loro borsa si chiama responsabilità questa qui se noi iniziamo ad allenare sin da piccoli sulla responsabilità crescendo aumentano le responsabilità dentro la borsa c'è dalla mutandina al ghetto e quando lavoriamo con gli adolescenti purtroppo ci sono delle bevande energetiche ma cosa stiamo insegnando che per vincere in una partita bisogna assumere già delle bevande e poi ci lamentiamo se a 17-18 anni bevono altri tipi di bevande altri tipi di sostanze quando noi a scuola tiriamo fuori la bottiglietta di Gatorade e diciamo ai bambini di quinta elementare mentre nelle medie tiriamo fuori la lattina di Red Bull chi beve le Gatorade e i bambini dicono io, io, io è buona sì ma perché la bevi così vado più veloce ma chi ti ha detto questa cosa mio papà provate a pensare alle pubblicità su queste bevande sembra che bere una bottiglietta colorata di acqua e zucchero si vincano ma è un processo mentale è un apprendimento entra dentro giorno dopo giorno dopo giorno le scarpe di Cristiano Ronaldo fanno vincere le partite peccato che dopo due settimane il piede del bambino è già allungato e con le 170 euro delle scarpe di Cristiano Ronaldo le dobbiamo buttare accesso scusate però è questo che succede ma non siamo possiamo essere responsabili noi di queste cose queste cose se poi lo decido con l'allenatore le condivido allora siamo d'accordo quindi tutte queste parti sono azioni concrete ho parlato della borsa potrei parlare dello spogliatoio potrei parlare della sconfitta potrei parlare di 750 cose andiamo sotto fermiamoci le prime 11 ditemi se c'è un luogo dove queste cose si possono comprare visto che ormai possiamo comprare qualsiasi cosa esiste un centro commerciale esiste un fruttuidendo un meccanico dove queste cose le possiamo comprare neanche su Amazon allora un allenatore un genitore un insegnante oggi come ero oggi la capacità di farsi ascoltare non è una cosa semplice entriamo in una palestra c'è l'allenatore che vuole spiegare l'esercizio la palestra è grande la palestra ha un suono proprio vocale che li imbomba i ragazzi devono essere vicino a me perché io le devo guardare in faccia viene naturale mettersi a una distanza viene naturale il mio compito come allenatore se voglio comunicare un esercizio è quello di avere vicini ai ragazzi ma proprio in termini di metri e di misura più le tengo distante più la capacità di farmi ascoltare diminuisce la riflessione che cosa vuol dire che io ho ascoltato faccio un esercizio e vedo se c'è stato un piccolo piccolo cambiamento se non c'è un piccolo tentativo di cambiamento vuol dire che devo ritornare indietro i ragazzi in qualche modo non hanno capito e io se devo spiegare un esercizio nel processo di apprendimento dei ragazzi sono io che devo iniziare a far vedere l'esercizio perché oggi i ragazzi fanno fatica ad ascoltare le prime tre sono proprio l'abcd dell'educazione dello strumento educativo ed è valido per un genitore e per un insegnante noi entriamo nelle scuole porca miseria e c'è un insegnante che alza il tono della voce adesso ragazzi basta aiuto uno deve insegnare per un anno di file e utilizza il proprio strumento vocale dove cosa crea paura timore dobbiamo essere in grado di utilizzare la nostra voce è uno strumento che ci aiuta tantissimo anche il silenzio in questo mondo di rumori è un qualcosa che ci aiuta provate a immaginare pensando a basket pallavolo quando hanno in mano le palle io sto spiegando la palla quando io sto spiegando deve essere totalmente ferma perché non ho palestra rimbomba e il suono si disperde quindi tutti dei piccoli cambiamenti l'educazione si impara sin da piccoli una piccola pianta se io la cura da piccola sarà più facile che quando è un po' giovane adulta sia una bella pianta ma se no noi dedichiamo tempo quotidiano e lo curiamo e magari qualche foglia ingiallisce e stiamo lì e la curiamo bene sarà difficile che poi da grande sia una bella pianta il processo della crescita dei ragazzi è in modo semplice molto così i bambini hanno bisogno di attenzione hanno il diritto di sbagliare e alcune persone oggi non sono capaci di fare una cosa tra sei mesi saranno in grado di farlo quindi vuol dire rispettare anche i tempi individuali quando il mondo soprattutto sportivo lavora sulla selezione nella fascia giovanile per noi educatori è un'assurdità è un'assurdità perché oggi un ragazzo di otto anni gli si crea un grande sogno che diventerà un grande campione poi magari non si sviluppa fisicamente dopo due anni deve ritornare indietro noi quando lavoriamo con l'Inter quindi stiamo parlando di una società professionistica questo è uno dei drammi maggiori che si crea questo adesso gioco all'Inter adesso divento campione dopo a giugno maggio letterina mi dispiace torna al tuo territorio il bambino l'abbiamo bruciato perché gli abbiamo distrutto un sogno quindi i genitori a queste cose devono stare attenti no? e potrei andare avanti su tutte queste parole e sulle successive se fai scorrere un attimo sono 20 parole praticamente ci sono delle cose che noi possiamo fare insieme non dobbiamo lavorare su tutte le cose faccio l'esempio dell'osservazione quando Paolo diceva tutto raggio quando noi andiamo a vedere una partita di pallavolo di basket e di calcio noi non osserviamo il risultato osserviamo il comportamento dei dirigenti degli allenatori dei genitori a bordo campo abbiamo delle schede provate a immaginare una partita di calcio a bordo campo qual è la parola che viene più detta dai genitori tira 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 passa passa ma mister ma arbitro cioè andiamo a vedere a prendere il nostro film per dire passa tira e poi andiamo dall'allenatore e diciamo hai sbagliato mi dispiace ma quale confusione stiamo creando a questi ragazzi ma stiamo creando veramente una confusione il buon talento verrà fuori lo stesso verrà fuori lo stesso perché i talenti sono naturali giorno dopo giorno un bravo allenatore lo porta da A lo porta B da B lo porta C da C lo porta D e le persone ad agio ad agio crescono quindi su tutte queste cose ci sono delle schede ci sono degli esercizi ci sono tutta una serie di attività che sono i nostri 40 anni di storia quindi tutta una modalità ci tenevo a dire invece l'oratorio allora io arrivo ad esempio personalmente da una storia dell'oratorio ho avuto la fortuna di avere delle donne che mi hanno insegnato ad amare il mio lavoro quindi essere un buon educatore l'oratorio e meno male che Don Aversio meno male che il nuovo cardinale ha rimesso al centro il DNA dell'oratorio vuol dire che l'oratorio è quel luogo che ha una matrice ben precisa che negli ultimi anni purtroppo si è un po' persa si è un po' annegliata offuscata e le attività sportive all'interno dell'oratorio anche loro hanno seguito poi questa tendenza oggi con il progetto oratorio 2020 che ha lanciato la diocesi vuol dire che è in atto una riflessione sul nostro modo di essere oratorio vuol dire non solo sport ma tutto quello che succede dalla vacanza al bar a qualsiasi cosa e lo sport non è solo una palla lo sport è uno strumento per far crescere i ragazzi quando noi con la nostra attività sportiva andiamo in un quartiere di Rozzano e tiriamo fuori una palla non ne andiamo lì per fargli giocare a calcio la palla è lo strumento che ci permette di lanciare 30 ragazzi che al pomeriggio si devastano di alcol quindi è lo strumento che mi serve oggi come oggi con tutto il sistema di immigrazione e con tutto il sistema di povertà ci sono tante famiglie che non possono pagare la retta all'interno di una società sportiva quindi in alleanza con le amministrazioni le società sportive è come avere un'altra assistente sociale che costa molto di meno un ragazzo inserito in una comunità che combina dei disastri costa praticamente 35-40 mila euro all'anno un ragazzo quindi stiamo parlando di cifre enormi quindi anche le amministrazioni qui a Romagna grazie c'è anche un'amministrazione che ha capito un po' l'importanza di questa cosa e sostiene questo progetto l'amministrazione non è solo sistemare le strutture è offrire delle competenze all'interno di quella società sportiva che accoglie che cerca di fare del proprio meglio in quello spazio e se noi guardiamo nei paesi non è che ci sono 27 cinema 27 cioè l'oratorio forse è uno dei pochi luoghi rimasti le parole le ho finite noi utilizziamo anche quando lavoriamo con le persone l'utilizzo di immagini quando ci siamo provati a preparare mercoledì questa serata abbiamo detto non dobbiamo fare il torto a nessuno non dobbiamo fare il torto alla pallavolo a basket al calcio quindi c'è questo grande campione il suo record ha esistito una vita che è Pietro Menea che ci dite una cosa importantissima non importante importantissima ascoltate le sue parole qual è la cosa che vi interessa in primis questa domanda è rivolta a tutti i genitori gruppo socialità divertimento squadra gruppo movimento non ho capito movimento movimento salute solo questo regole rispetto emozione allenamenti tutte le attività sportive non muovono muovono il corpo muovono anche la mente perché il ragazzo deve reagire deve pensare deve riflettere che sia una palla di calcio una palla da pallavolo deve spostare il suo corpo in base a un suo pensiero quindi una parte riflessiva queste sono gli ingredienti fondamentali perché io genitore mando mio figlio a fare un'attività sportiva e non dovrei mai perderli di vista sto parlando dello sport giovanile ma poi quando arrivano a casa o siamo a bordo campo queste sono le priorità o guarda mio figlio come si sta divertendo guarda mio figlio guarda prima era da solo adesso è in un gruppo in una socialità e ha dieci amici oh che bello lo sport quella palla quelle palle perché spesso veramente ci fanno due teste così diventa un qualcosa di distruttivo di distruttivo e perdiamo di vista gli obiettivi centrali noi dobbiamo tenerli sempre presenti anche nelle semplici parole ormai è diventato una prassi si è scritto dappertutto che un bambino che gioca perde dopo dieci minuti praticamente lui si è dimenticato della sconfitta si è dimenticato è il genitore che continua a dire che è colpa di qualcuno regole non solo in campo ho detto la borsa entrare in un luogo trattare bene i materiali salutare l'avversario avere rispetto per quella figura per quella figura che si chiama arbitro che rappresenta la legalità in campo senza arbitro non si può giocare l'albitro è quella la persona e non si capisce perché in una partita tutti i giocatori possono commettere degli errori e nello sport giovanile che sono ragazzi persone che lo fanno tra virgolette qualcuno magari prende rimborso spese lo fanno in forma gratuita sono quelle persone che vengono continuamente insultate derise offese siamo a metà anno e sono già stati picchiati 300 giovani arbitri nel 2016 sono stati 800 gli arbitri picchiati nei campionati giovanili non uno 800 ma cosa stiamo facendo stiamo rovinando una delle cose più belle che abbiamo che sono le attività sportive e l'oratorio non deve mai dimenticarsi che è veramente un luogo dove tutti questi valori che in qualche modo fanno parte del progetto educativo dell'oratorio un progetto una società sportiva non dovrebbe essere mai slegata da un progetto dell'oratorio quindi se io porto qua mio figlio all'oratorio e penso che quel luogo non fa per me lo prendo e lo porto all'Inter al Milan a Juve che magari fanno un altro tipo di lavoro però deve essere dichiarato all'inizio ci deve essere un contratto ritorniamo a Menea ed eccoci alla prova più attesa di questa giornata per quanto ci riguarda Menea in ottava corsia ecco vuola la Dio parte più spesso Wells nei confronti di Menea che lo supera subito ecco vediamo lotta a spalla a spalla tra Wells e Menea è al comando attualmente di Cleve poi ci distendente fuori Menea cerca di recuperare cerca di recuperare recupera 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 ha vinto ha vinto straordinaria imprema di Menea che sembra una fortuna sui cento media recuperato prodigiosamente in una gara di pranz straordinaria super in bagara con un tempo anche di grande valore 20 e 19 ed ecco se non vincere nella vita io grazie allo sport ho appreso determinate cose che mi hanno insegnato a provare a vincere nella vita che è la cosa più difficile allora chi ti affianco oltre che insegnarti ad essere veloce a lanciare il peso l'attrezzo più lontano deve anche darti gli insegnamenti di vita che trascendono quando vanno al di fuori dello sport se a fianco una persona che non è non ha questa qualità ti mancherà sempre qualcosa allora noi assistiamo a molti sportivi che quando finiscono hanno fanno fatica fanno fatica perché nella vita di tutti i giorni non dico che ci sono regole diverse io metto sempre la base di tutto il lavoro che la cultura del lavoro senza cultura del lavoro non fai niente ma io reputo importante la cultura dell'onestà la cultura della verità se tu non perdi tempo se non abbracci la cultura della verità fai una perdita di tempo con queste puoi costruire qualcosa di importante anche nella vita di tutti i giorni e cioè la base principale è quella voglia di migliorarsi che la vita è come una pista a otto corsie la vita è una pista a otto corsie sette corsie noi lasciamo come decidono gli altri che vada una corsia ce la devono lasciare libera ce la devono lasciare libera dobbiamo lottare perché una corsia sia libera e allora chi sale in quella corsia e chi lavora chi ha meriti chi ha voglia di fare chi ha voglia di migliorarsi chi ha voglia di apprendere chi ha voglia di camminare gambe con le proprie gambe con la propria testa e allora noi dobbiamo far in modo che quella corsia sia libera per queste possibilità tutte quelle parole che ha detto Menea fanno parte del nostro DNA come comunità nuova la cultura del lavoro la cultura dell'onestà la cultura del voglia di rimettersi in gioco ha detto che il compito di un allenatore è quello di essere un buon esempio ma soprattutto per le cose che diceva anche Don noi siamo qui per far crescere i ragazzi e crescere i ragazzi vuol dire poi fare delle cose questo è un po' tutto il lavoro che vorremmo fare qui alla GSO non per ultimo il senso di appartenenza cioè vivere il proprio territorio la propria società sportiva come una risorsa e anche qui vi faccio vedere un video è un video che parla di un allenatore il gol di un film Mugnes vieni qui eh ragazzi venite qui avanti tutti qui così Mal dammi cinque minuti ok grazie allora quando dico vai devi correre più forte che puoi per sorportare ok si vai dormi qui ancora vai che è riparato che si può segnare da metà campo no perché la palla è molto più veloce di te qui la palla si passa lo riesci siamo una squadra non lo so l'unico il nome che porti davanti è più importante di quella pietra ok si ciao ciao il nome che porti davanti quindi il logo e io porto in questo caso il positivo è più importante del fatto che mi chiamo Tony il logo della GSO ci auguriamo quando Paolo diceva quale ce ne sarebbe essere fra due tre anni e che le diverse discipline siano più unite di magari di quello che sono oggi che gli allenatori ci siano più movimenti conviviali di festa di esperienze come può essere la vacanza perché tutte e tre le discipline in qualche modo lavorano per un obiettivo siamo qui per vivere un'esperienza comunitaria noi figure adulte noi nei vari ruoli allenatori dirigenti politici padri spirituali e i ragazzi questa è un po' la mission quello che ci piacerebbe continuare ad aumentare non dipende solo da alcune persone ma dipende dal gioco di squadra perché solo due o tre persone non ci possono fare a fare tutto questo lavoro ma bisogna essere una squadra quindi se ci teniamo a questa cosa non solo stasera ma anche nei prossimi appuntamenti il lavoro che stiamo cercando un po' di portare avanti è quello di allargare sempre di più le discussioni il questionario che vi arriverà non è solo devo dare delle risposte ma ci interessa sapere il vostro parere su come vivete nel bene e nelle criticità la GSO perché guardando anche le criticità che il nuovo direttivo può decidere da che parte andare quindi senza timore se ci sono delle cose che secondo voi possono essere migliorate date le risposte sincere e tutti i dati che verranno fuori è importante vi verranno comunicati per dire noi adesso con le risorse con le forze che abbiamo possiamo fare uno, due, tre cose poi se riusciamo a fare anche la quarta siamo contenti perché l'educazione i miglioramenti non devono essere dei castelli di sabbia ma ci devono essere delle fondamente veramente importanti questo è un po' tutto il progetto che in qualche modo noi stiamo offrendo in qualche modo le nostre competenze ma il gran merito va a tutte le persone che fino ad oggi quindi al nuovo direttivo al ZON ci hanno accolto vi assicuro che non è una cosa semplice noi siamo entrati nelle squadre e siamo stati veramente accolti bene quindi senza nessun timore inizialmente in altre società sono lì a controllarci adesso mi dicono che sbaglio no non siamo lì a giudicare nessuno ma siamo semplicemente degli educatori che amano il proprio lavoro e cercano di offrire anni di storia e delle competenze questo è quello che Comunità Nuova offre al GSO l'Omagna e io tempo dice 10 e 29 preciso perché il tempo è una cosa importante se c'è qualche domanda qualcosa che non avete capito o a me a Paolo al direttivo o al donna siamo qui anche per rispondere a curiosità ci salutiamo stasera non c'è riflesso però è un bar aperto